Torniamo a occuparci della Banca Popolare di Prato perché è arrivato il via libera della Consob e quindi da lunedì raccolta del capitale per il Comitato Promotore, un sogno che si avvera. Nadia Tarantino. Via libera alla Banca Popolare di Prato. Consob ha approvato il piano industriale inviato meno di tre mesi fa dal Comitato Promotore e ha autorizzato a partire da lunedì prossimo alle 10 la raccolta di capitale. Una notizia che ha fatto esultare il Comitato Promotore che già martedì sera, mentre in Palazzo Comunale era in corso l'incontro con le istituzioni, le categorie economiche e gli ordini professionali, aveva ricevuto l'annuncio in anteprima della benedizione di Consob. Stamani di buon'ora la conferma ufficiale. Dal 25 novembre un anno di tempo tondo tondo per mettere insieme il capitale. Minimo 10, massimo 15 milioni con sottoscrizione minima di 2.500 euro e massima equivalenti all'1% del capitale sociale raggiunto al termine dell'offerta. Ma l'operazione potrà dirsi conclusa al traguardo dei 12 milioni. Al momento si tratta solo di promesse di sottoscrizione. Una volta che sulla carta i soldi ci saranno, l'investitore dovrà effettuare il versamento. Investire a Prato ogni centesimo raccolto a Prato è lo slogan che da sempre accompagna il sogno di dare alla città una sua banca, una banca del territorio capace di parlare soprattutto alle imprese. Sogno che fu presentato il 17 aprile del 2012 e che in appena un anno e mezzo, il 29 agosto, ha fatto arrivare a Consob il piano industriale. Approvazione in tempi da Guinness dei Primati. A gennaio 2015 potrebbe aprire il primo sportello. La fiducia del Comitato Promotore è alle stelle, ancor di più l'entusiasmo.